Incidente su F122, Luis Hamilton su Merceres, GP Ungheria Già detto che è culpa mia, ho sbagliato in puntata perché vedi che qua io mi metto dentro Anche se non sono sul cordolo, il cordolo dovrebbe essere più stretto Adesso la teleconaca, fattate a me Adesso nel senso su... dove va su Hamilton? Siamo qua all'isterro, si prova, non devo passare, non devo passare Lui passa, contatto fuori Hamilton, fuori Hamilton, tenz'è contatto, contatto E safety car, safety car, è incredibile